Allora, quindi, siamo arrivati all'ultima lezione di quest'anno, una lezione di riepilogo, che dedicherò a un riepilogo di tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi due anni, cioè il programma di terza e il programma di quarta, concentrandomi chiaramente di più su quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi il programma di quarta. Allora, abbiamo iniziato a studiare letteratura italiana l'anno scorso, o meglio, alla fine della seconda, parlando dell'amor cortese. Noi le epoche che abbiamo studiato l'anno scorso sono tre secoli, in particolare due, cioè noi abbiamo iniziato a studiare dal 1100 e poi abbiamo studiato il 1200 e soprattutto il 1300. Quest'anno invece ci siamo dedicati al 1400, al 1500, al 1600 e al 1700. Chiaramente il terzo anno ci ha preso più tempo perché i grandi autori della letteratura italiana e i più famosi della letteratura italiana anche al mondo sono Dante, Petrarca e Boccaccio, che sono autori tosti, quindi li abbiamo studiati tanto. Però il nostro viaggio letterario comincia dall'amor cortese, dall'amor cortese che, se vi ricordate, è il primo grande argomento della letteratura che abbiamo studiato e non fa parte della letteratura italiana perché l'amor cortese e il concetto dell'amor cortese e la letteratura cortese nasce in Francia. Noi l'anno scorso abbiamo letto un testo del cappellano, il De Amore, che serviva appunto a definire le caratteristiche dell'amor cortese. Vi ricordate che doveva essere un amore non coniugale ma adultero perché il matrimonio era considerato nel Medioevo soltanto un contratto, quindi il vero amore lo si provava al di fuori del rapporto, un amore quello cortese che non era mai corrisposto o comunque impossibile, quindi un amore sofferto e il poeta e lo scrittore soffriva a causa di quest'amore che non riusciva a compirsi. Era un amore non platonico, quindi non ideale, ma era un amore carnale del sesso fondamentalmente, cioè del sesso, che non aveva pudore a parlare anche di argomenti più licenziosi, frivoli. Poi abbiamo fatto, sempre tipico di quest'epoca, della letteratura cortese, questo aggettivo ve lo ricordate? Cortese non vuol dire gentile come lo intendiamo noi oggi, ma che proviene dalla corte. Oltre a questa tematica principale dell'amore cortese, che chiaramente si concretizzava nell'ideale della donna, che andava sublimata, che andava servita, che era graziosa, gentile, nel senso di nobile, e oltre a questa tematica dell'amore cortese, abbiamo studiato anche la chanson de geste, le chanson de geste, quei cantari tipici sempre del Medioevo, e la chanson de Roland è la chanson de geste più famosa, in cui c'era il combattente, il cavaliere, che doveva mostrarsi fedele, leale nei confronti del proprio signore. Poi un altro genere letterario era il romanzo cortese-cavalleresco, scritto da, se vi ricordate, Chrétien de Troyes, con Artù e i Cavaliari della Tavola Rotonda, abbiamo visto le differenze tra il romanzo cortese e la chanson de geste, una di argomento storico, l'altra invece presenta il meraviglioso, il leggendario. Poi abbiamo studiato la lirica provenzale, la lirica provenzale che, a differenza delle altre due, era scritta in lingua d'oc, invece il romanzo cortese e la chanson de geste erano scritte in volgare, ma in lingua d'o'hille. L'ingua d'o'hille era la lingua del nord, la lingua d'oc era la lingua del sud della Francia. La lirica provenzale aveva come tematica principale l'amor cortese, nuovamente, proprio come il romanzo cortese-cavalleresco. Poi, piano piano, dalla Francia ci siamo spostati all'Italia. Abbiamo visto come queste tematiche, in particolare quelle dell'amor cortese, si siano spostate, piano piano, in Italia. La letteratura italiana e l'italiano, la lingua italiana, dove nasce? In Sicilia, vi ricordate la scuola siciliana? Scuola siciliana con Jacopo Dallentini, che fu l'inventore della forma metrica del sonetto. Alcuni argomenti tipici della letteratura provenzale, come l'amor cortese, l'amore la donna, che viene vista come la signora da servire, passano nella letteratura italiana, in particolare nella scuola siciliana. Parallelamente alla scuola siciliana si formano anche le poesie e le correnti poetiche del filone religioso, che abbiamo visto però alla fine della seconda, con San Francesco, Laudato sì, mi signore, per frate e sorella e sorella Luna, e il Cantico delle Creature, Jacopone Dattodi, che aveva scritto La Donna del Paradiso, queste cose non so se ve le ricordate, però la scuola siciliana dovreste ricordarvela. E le tematiche della lirica provenzale che erano passate nella scuola siciliana vengono riprese dai cosiddetti rimatori toscani. Siamo all'inizio, a metà del 1200, quando quei rimatori toscani quindi adattano alla lingua toscana le poesie tipiche della scuola siciliana, che avevano ripreso le tematiche provenzali. I rimatori toscani saranno fondamentali poi perché influenzeranno il movimento letteracorrente letteraria successiva alla loro, che si situa nella seconda metà del 1200, che è il cosiddetto Dolce Stil Nuovo, il Dolce Stil Nuovo ai cui massimi esponenti furono guinizelli e cavalcanti, e anche Dante stesso. Ricordate di Dolce Stil Nuovo nuovamente questa figura della donna che però diventa ancora più sublimata, una donna angelo, una donna che viene descritta con caratteri angelici, non ci sono quelle caratteristiche dell'amor cortese, dell'amor carnale, amore platonico. La donna viene vista come un angelo che porta salvezza nell'essere umano. E come al solito però c'è l'amore come tematica principale, che porta sofferenza, eccetera. Abbiamo visto anche, se vi ricordate, un filone parallelo a quello del Dolce Stil Nuovo, che era la poesia comico-realista, il cui massimo esponente, sempre siamo, sempre tra la seconda metà del 200, inizio del 300, Cecco Angiolieri, «Si fossi fuoco, arderei lo mondo», oppure «Tre cose solamente, meno in grado». Cos'era? Bacco, tabacco e venere? No, il tabacco non c'era. Il dado, il bacco, il dado e venere. Quindi «Gioco d'azzardo», Cecco Angiolieri, che era appunto l'esponente di questo filone di poesia comico-parodica, che, a differenza del Dolce Stil Nuovo, era molto più realista. Poi abbiamo parlato, chiaramente, di Dante Alighieri. Ora, il riassunto che vi faccio sarà molto breve. Di Dante Alighieri abbiamo studiato la vita nuova, le rime, il convivio, il divulgare eloquenza. Vi ricordate che Dante provava a dare dignità a questa nuova lingua alla pari del latino, perché la lingua letteraria e della cultura europea era ancora il latino. Anche se si stava affermando, ormai, dalla chanson de geste in poi, il vulgare come lingua letteraria. E Dante, nel suo divulgare eloquenza, provò ad intracciare quale doveva essere il vulgare più ideale alla scrittura. Non lo trovò, disse che doveva essere un insieme di tanti vulgari che venivano parlati nella regione italica dell'epoca. La monarchia, il demonarchia che era di Dante che sviluppavano i rapporti tra quali dovevano essere i rapporti tra papato e imperatore se l'uno fosse più importante dell'altro. Utilizza la metafora del sole e della luna che non dovevano essere il papa e l'imperatore sole e luna, cioè vivere uno della luce riflessa dell'altro, ma dovevano essere due soli eccetera. Poi abbiamo fatto l'epistola a Can Grande, questa ve la ricordate se non altro di nome, che fu importante perché c'era scritta come doveva essere letta la Divina Commedia e chiaramente abbiamo fatto anche i primi cinque canti della Divina Commedia. è il primo e vabbè, la Divina Commedia è un capitolo a sé. Dopo Dante siamo passati a Petrarca, di Petrarca abbiamo letto parecchi sonetti del canzoniere che è il suo capolavoro, ricordatevi se non altri capolavori dei primi tre grandi autori della letteratura italiana, Dante, Divina Commedia, Petrarca, il canzoniere, Boccaccio e il Decameron. Ma di Petrarca abbiamo letto sì, tanti sonetti che se vi ricordate cosa trasmettevano, riprendevano un po' le tematiche tipiche dell'amor cortese riprese dallo stil novo fiorentino, però le modificava, aveva un animo che si stava aprendo, quello di Petrarca, verso l'umanesimo e le tematiche che poi saranno proprie dell'umanesimo e del rinascimento. Un animo a cavallo tra un'epoca ancora medievale e invece quella rinascimentale. Vi ricordate il suo amore verso Laura? Un amore che però lui considerava peccaminoso perché l'unico amore sublimo era Dio e invece Laura lo confondeva, lo distraeva da quest'amore nei confronti di Dio e quindi viveva quest'amore come un senso di vergogna anche perché Laura chiaramente non si dava quindi provocava sofferenza, turbamenti, eccetera. erano tantissime le tematiche che vengono fuori dai sonetti del Petrarca anche il tempo che passa e l'uomo non può far niente di fronte al tempo che passa inesorabilmente un altro tema che poi verrà ripreso nel rinascimento. Comunque, questo è Petrarca, l'ascesa al Monte Ventoso. Vi ricordate la lettera che scrive e in cui fa quella passeggiata col fratello verso il Monte Ventoso che è un monte della Provenza e lui prendeva le scorciatoie però non arrivava mai invece il fratello andava dritto verso il punto. Ok, poi di Boccaccio ci siamo soffermati molto di più su Boccaccio e abbiamo fatto, abbiamo letto un sacco di novella. Abbiamo letto Andreuccio da Perugia, vi ricordate il ragazzo che proveniva da Perugia si ritrovava a Napoli con un po' di soldi che è causa di una prostituta e poi finisce nelle feci fa tutto un rigirio di storie strane fino a quando non va nella tomba del Vescovo si diventa più furbo rispetto a come era entrato a Napoli e riesce a tornare a casa più ricco di come era partito. Abbiamo letto Lisabetta Rammessina la storia dei fratelli che uccidono l'amante segreto di Lisabetta Rammessina abbiamo letto Chichi Biocuoco il problema delle gru la battuta finale abbiamo letto di Frate Cipolla e Nastagio degli Onesti Calandrino e Lelitropia il calandrino che si credeva invisibile no? che era stato invece soggiogato da da Buffalmacco e l'altro che adesso non ricordo come si chiama comunque poi Masetto da Lamporecchio che era quello che si spacciava per muto per farsi tutte le le suore del convento e anche la matrona e poi la novella delle papere che anche quella era di argomento un po' licenzioso e quali erano le tematiche che venivano fuori dal Decameron tematiche che conosciamo bene perché l'abbiamo studiato anche quest'anno quindi il rapporto tra virtù e fortuna come un uomo doveva riuscire ad adattarsi alle situazioni che gli venivano proposte di fronte e Andreuccio da Perugia in questo caso è l'esempio classico che si fa oppure anche Calandrino eccetera poi gli argomenti licenziosi chiaramente anticipano le tematiche dell'umanesimo e del rinascimento l'erotismo di alcune novelle come quella di Masetto e della novella delle papere e la beffa il tema della beffa quella che Calandrino subisce e che fondamentalmente la beffa bisogna vedere come un personaggio riesce ad adattarsi a seconda della propria intelligenza della propria virtù alla beffa che gli viene posta di fronte Calandrino è scemo ingenuo quindi casca in pieno nella beffa e non riesce a reagire se la prende poi vi ricordate con la moglie che la picchia invece frate cipolla quello delle piume che improvvisamente si ritrova le piume come reliquia invece di una pietra mi sembra e anche lì lui è stato beffato però a differenza di Calandrino riesce a reagire in maniera perfetta grazie alle sue doti quindi queste erano le tematiche principali delle cose che abbiamo studiato l'anno scorso quest'anno abbiamo studiato molto di più abbiamo fatto molto di più rispetto al terzo anno perché? allora anzitutto abbiamo letto due libri vabbè finisco letteratura dai poi allora letteratura siamo partiti da un riepilogo breve di quello che abbiamo fatto l'anno scorso nel senso che la prima unità se vi ricordate era dedicata dal dal medioevo alla dignità dell'uomo quindi vi ho letto un testo e mezzo quello di Innocenzo III vi ricordate il contento mondi sul disprezzo del mondo che parlava del corpo come peccato che l'essere umano era utile solo come cibo per vermi che qualsiasi piacere era peccaminoso quindi un testo che è estremamente colto e raffinato scritto da un papa tra l'altro da quello che poi sarebbe diventato papa che rispecchiava la mentalità medievale vi ho letto anche l'inizio poi di oh signor per cortesia manname la malvasia vabbè in cui Jacopone da Todi in cui augurava il signore pregava il signore che gli inviasse la malaria le peggio malattie proprio perché sentiva il corpo si sentivano il corpo come peccatore perché il corpo vuole provare piacere il corpo vuole cose terrene e sappiamo perfettamente che nel medioevo invece c'era una mentalità opposta cioè il piacere era peccato provare piacere non era era appunto peccato poi all'interno della stessa unità invece abbiamo paragonato questi due testi con il testo di Giannozzo Manetti De Dignità delle Eccellenze Omini e abbiamo anche visto in verifica però il testo di Pico della Mirandola sulla dignità dell'uomo in cui invece in questi due testi sono importanti perché si rivaluta l'uomo il corpo le sensazioni piacevoli e l'esaltazione del corpo dei piaceri contro l'ascetismo medievale di Innocenzo Terzo di Acopone Dattodi e quel tipo di visione e sono la dignità dell'uomo il tema principale il tema chiave di tutto l'umanesimo in cui si riscoprono i classici latini e greci e si riscoprono quindi delle tematiche non cristiane e quindi più laiche questo non vuol dire che l'umanesimo non fosse un movimento cristiano perché tutti gli scrittori erano cristiani profondamente credenti ma significa semplicemente che ci si apre a culture diverse c'è una minore rigidità nei confronti di alcuni temi come il provare il piacere il tema della dignità dell'uomo è che l'uomo ha un cervello che altri animali e esseri viventi non hanno sul pianeta e Dio ci ha dato questi sensi questo cervello per un motivo ben preciso che per goderne quindi perché dobbiamo credere che il corpo sia peccato è Dio che ce l'ha dato è un dono del Signore quindi bisogna con i dovuti limiti sfruttarlo quindi questa è la prima unità che abbiamo fatto quest'anno il passaggio dalla visione medievale a una visione umanistica della dignità dell'uomo poi abbiamo analizzato tipica abbiamo analizzato la poesia del carnevalesca di Lorenzo il Magnifico Il trionfo di Bacco e Arianna magari vi ricorderete l'immagine del satiro con il pene ritto il trionfo di Bacco e Arianna era tutta una storia no? di domanda non c'è certezza oddio me la ricordo più questa è la storia di Bacco oddio come faceva e vabbè comunque le tematiche principali erano tematiche principalmente le scienziose no? però impermeate di classicismo venivano riprese tematiche e veniva ripresa la mitologia greca e latina e adattata alla alla letteratura alla cultura contemporanea eccola qui quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza e quindi ci sono satiri c'è Bacco ci sono già Bacco e Arianna è un mito greco no? e però viene fuori questa tematica erotica di questi satiretti che si divertono a giocare con le ninfe a rincorrerle le ninfe che scappano un po' civettuale eccetera sono tematiche chiaramente non medievali che si rifanno alla cultura dell'epoca una cultura più libera più e meno legata a quello che abbiamo detto prima al peccato del corpo eccetera quindi il triunfo del Bacco e Arianna è un testo esemplare delle tematiche dell'umanesimo poi abbiamo studiato che cosa? i poemi epico cavallereschi perché nel nel 400 qui siamo nel 400 con i medici Picco della Mirandola Giannozzo Manetti quindi in quell'epoca che vi ho detto essere l'umanesimo abbiamo poi sempre nel 400 i due poemi epici cavallereschi più importanti sono quello del Pulci e quello del Boiardo il Pulci ha scritto il Morgante la storia di quel gigante e abbiamo letto l'autoritratto di Margutte questo gigante che incontra Margutte che è mezzo mezzo gigante più alto di un uomo ma non tanto alto quanto un gigante sporco lercio schifoso che rappresenta un po' una parodia dei romanzi dei cantari cavallereschi eccetera dei poemi epici e poi l'Orlando innamorato che unisce quelle che noi abbiamo studiato unisce le tematiche tipiche di ciò che noi abbiamo studiato l'anno scorso il romanzo cortese cavalleresco che era l'amor cortese eccetera la chanson dei gesti quindi la serietà dei cavalieri l'Orlando innamorato unisce queste due tematiche nel suo poema che poi verrà proseguito dall'Ariosto siamo passati poi a parlare quindi il tema chiave dell'umanesimo attraverso queste opere la parola chiave che vi deve rimanere in mente perché poi abbiamo visto che torna più volte nella letteratura è il classicismo questo riutilizzo di tematiche greche latine grazie alla riscoperta di testi che erano stati nascosti per centinaia di anni all'interno di monasteri che vengono ora ritrovati riscoperti riletti tradotti nuovamente e si scopre questa civiltà meravigliosa che era la civiltà greco-latina che aveva dato le più che era stata il massimo dal punto di vista politico filosofico civile letterario artistico e quindi bisognava imitare per essere altrettanto perfetti bisognava imitare quel tipo di modelli tutto questo chiaramente esplode se inizia nel 400 tutto questo esplode nel secolo successivo nel rinascimento nel rinascimento è il secolo delle arti per eccellenza in cui l'Italia ha l'avanguardia dal punto di vista culturale in ogni settore e abbiamo studiato tante tante cose anche qui innanzitutto abbiamo parlato per quanto riguarda della trattatistica il trattato più importante è quello del bembo delle prose della volgarlingua in cui si ricercano come modelli non soltanto la letteratura greca e latina ma anche la letteratura italiana del 1300 cioè i tre grandi autori Dante, Petrarca e Boccaccio ma bembo sceglie Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa che saranno i due modelli che seguiranno poi tutti gli scrittori del 500 e Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa mentre Dante verrà relegato ad autore più scomodo da rimodellare non autore minore chiaramente perché Dante era troppo grande per essere messo tra gli autori minori però venne criticato perché per vari motivi di cui abbiamo parlato a lezione quindi le prose della volgarlingua furono molto importanti per la letteratura italiana del secolo come fu molto importante anche il trattato del cortigiano di cui abbiamo letto un pezzo la sprezzatura di come si doveva comportare il cortigiano il buon cortigiano a corte quali caratteristiche doveva avere eccetera addirittura la trattatistica era un genere letterario molto importante nel 500 il Galateo un altro trattato che fu steso e fu scritto dal della casa in quegli anni e come ci si doveva comportare a tavola eccetera e poi dagli sviluppi di ciò che Bembo aveva scritto a proposito dei modelli da seguire nasce in Italia dal punto di vista della lirica della poesia lirica il fenomeno letterario del petrarchismo che poi si diffonderà in tutta Europa cioè prendere come modello petrarca per la poesia porterà alcuni poeti diciamo la poesia dominante del secolo era quella la corrente letteraria principale quella del petrarchismo noi abbiamo letto due testi quello di Pietro Bembo Crindoro Crespo e Dambra Terza e Pura e poi avevo introdotto così quello di Gasparastampa perché per farvi capire come veniva ripreso la poesia il modello di Petrarca voi che ascoltate in queste mestre rime è la poesia di Gasparastampa e vi avevo fatto l'esempio ricordandovi la poesia di Petrarca voi che ascoltate in rime sparse è il primo verso della prima poesia del canzoniere voi che ascoltate in rime sparse invece quello di Gasparastampa voi che ascoltate in queste mestre rime una ripresa classica proprio esemplare di come Petrarca veniva utilizzato come modello il petrarchismo avevo detto le qualità cioè le qualità le caratteristiche principali rifarsi a Petrarca la tematica dell'amore dell'amore sofferto però vi avevo anche detto quali erano i limiti perché in realtà adattare il problema di Petrarca all'amore conflittuale verso Dio verso Laura al 1500 non era la stessa cosa perché fondamentalmente che cosa diventava ormai il petrarchismo un gioco letterario vuoto però di contenuti perché Bembo non sentiva veramente quello che Petrarca sentiva nei confronti di Laura Bembo non aveva il problema non si poneva il problema dell'amore nei confronti di Dio e dell'amore nei confronti della sua Laura anche se non si chiamava Laura il personaggio di Bembo perché viveva un'altra epoca un'epoca più libera quindi la conflittualità interna non era sentita come peccaminosa era qualcosa di scontato era un amore sofferto perché non corrisposto ma non era sofferto perché peccaminoso perché c'era Dio e pensare a una donna significava escludersi da Dio quindi in qualche modo con ripetersi costante di questa moda letteraria che fu noi abbiamo letto due testi ma uscirono centinaia di migliaia di testi di centinaia di autori diversi con queste tematiche del petrarchismo riprendere Petrarca eccetera portò piano piano hanno lo svuotamento di contenuti della poesia in sé tanto che parallelamente a questo questo tipo di corrente letteraria si sviluppò si svilupparono anche i famosi anti-petrarchisti e anti-classicisti cioè coloro che riprendevano la tradizione letteraria italiana greca e latina ma ribaltandone i canoni quindi avevamo letto quella del Berni chiome d'argento fino a irte a torte che era la parodia della poesia del Bembo e invece di esserci una donna bella c'era una donna brutta con gli occhi storti i denti d'ebano quindi gialli diciamo quasi neri e proprio per parodizzare la poesia della corrente letteraria dominante che era quella del petrarchismo avevo accennato anche ad alcune tematiche oscene scandalose quelle di Pietro Aretino che ha scritto un sacco un sacco di opere come i sonetti lussuriosi di dubbi amorosi in cui si parla in maniera abbastanza esplicita esplicita vuol dire anche con parolacce divertenti satiriche di sesso e quindi l'amore l'amore sublimato dai petrarchisti veniva reso ridicolo invece dall'Aretino poi dopo aver fatto quindi petrarchismo queste prime tre unità diciamo scusate queste prime unità sul rinascimento quindi la trattatistica il petrarchismo l'antipetrarchismo abbiamo affrontato i due grandi autori Machiavelli e Lariosto Machiavelli del Machiavelli abbiamo letto la lettera a Francesco Vettori vi ricordate dell'esilio all'albergaccio da cui scrive come passava le giornate eccetera ci siamo soffermati sugli scritti politici a livello teorico e poi ci siamo chiaramente soffermati su alcuni testi del principe il principe che era questo trattato politico trattatello perché era molto è abbastanza breve il principe su come doveva essere un buon principe come doveva governare lui si ispira a Cesare Borgia ai fatti chiaramente attuali Machiavelli era un politico oltre che un letterato che aveva lavorato per tutta la vita a servizio di Firenze poi aveva avuto problemi con Firenze era stato esiliato scacciato e licenziato e abbiamo letto dal principe numerosi estratti di come doveva essere il principe doveva essere volpe e leone mezzo uomo e mezza bestia sapere quando utilizzare la parte razionale e quando utilizzare la parte bestiale la parte bestiale a sua volta doveva essere mezzo leone e mezzo volpe utilizzare la furbizia e utilizzare la forza e abbiamo parlato del rapporto tra fortuna e virtù come avevamo già parlato nel Decameron di Boccaccio come il buon principe però qui in termini politici cioè il buon principe deve sapersi adattare alle più disparate e alle più disparate situazioni che il caso ti pone di fronte e anche perché il principe ha a che fare con cosa? Con un'umanità abbietta crudele che non si fa egoista che non si fa scrupoli a chiamarti eroe un giorno e a denigrarti il giorno dopo che quindi il principe deve essere abile a fare il bene dello Stato senza tener di conto troppo dell'etica perché questo è rivoluzionario perché abbiamo visto che sono stati scritti un sacco di trattati su come dovesse governare un buon principe prima del principe di Machiavelli però è rivoluzionario dal punto di vista morale quest'opera perché per la prima volta il Machiavelli descrivendo facendo riferimento sia all'esperienza degli antichi perché lui era un grande studioso di letteratura antica classica quindi facendo l'esperienza della lezione degli antichi e facendo esperienza delle cose moderne essendo lui un politico e avendo a che fare con la realtà politica di Firenze riusciva secondo lui a consigliare bene il principe che doveva comportarsi bene o male a seconda dell'esigenza 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 del momento questo non significa che Machiavelli dicesse l'importante sono i fatti l'importante risultato no non vuol dire questo lui si limitava a descrivere la realtà come era la realtà storica che lui viveva abbiamo visto un'Italia estremamente debole dal punto di vista politico frammentata che si sbudellavano tra di loro si facevano la guerra la Repubblica di Firenze quella di Venezia il Ducato di Milano lo Stato della Chiesa una situazione politica estremamente instabile e il principe doveva sapersi muovere sfruttando la sua virtù contro la fortuna e c'è quella metafora del fiume saper costruire gli argini in modo che quando poi si verifichi uno straripamento gli argini proteggano dalla dallo straripamento del fiume e vabbè grosso modo questo quindi chiaramente ricordatevi la lettura dell'esperienza delle cose moderne e la lezione dell'antico perché anche lui è un uomo del suo tempo quindi credeva che la storia studiando i grandi autori del passato e qui il classicismo nuovamente la corrente letteraria del classicismo che torna studiando la grande storia del passato in particolare quella romana si potesse imparare dagli errori la storia potesse essere maestra di vita e ok poi abbiamo letto i discorsi abbiamo fatti a livello teorico facendo un confronto tra il principe e i discorsi che poi c'era anche da studiare oltre a queste differenze il fatto che il principe era un'opera più a favore della monarchia invece i discorsi più a favore della repubblica Machiavelli da che parte stava preferiva la repubblica o preferiva la monarchia e abbiamo detto che secondo la critica è probabile che nel momento di emergenza Machiavelli preferisse uno che aveva possibilità di decidere subito quindi la monarchia e invece in un momento poi di nel lungo periodo il governo migliore era la repubblica infine di Machiavelli abbiamo visto il film La mandragola di Lattuada un film del 1965 abbiamo collegato le tematiche tipiche della mandragola e alle tematiche di Machiavelli questa umanità ancora abietta bassa e finalizzata verso un obiettivo e vuole raggiungere per forza quell'obiettivo che generalmente è un obiettivo non certo un grande obiettivo sono egoisti fondamentalmente ok questo per quanto riguarda Machiavelli poi abbiamo studiato L'Ariosto dell'Ariosto il capolavoro l'Orlando Furioso ci siamo soffermati a livello teorico anche sulle altre opere però abbiamo letto parzialmente il primo canto vi ricordate quindi riprendeva quello del Boiardo quello del Pulci si rifaceva le tematiche della Chanson de Gest però dal punto di vista letterario l'Orlando Furioso è un po' il capolavoro dei grandi poemi epici cavallereschi abbiamo visto che ci furono più edizioni dal punto di vista linguistico Ariosto intervenne più volte nell'edizione per cercare di toscanizzarla il più possibile e rifarla seguendo i principi del Bembo di seguire il Petrarca e l'Orlando Furioso di cosa parla? di Orlando che impazzisce per Angelica e quindi porta alle estreme conseguenze la tematica dell'amor cortese che rende folli addirittura rende folli anche il paladino più virtuoso di Carlo Magno che era Orlando abbiamo visto abbiamo visto la tecnica dell'intralasse Mont e l'intreccio e come si sosseguono le varie storie i vari cavalieri questi cavalieri che nei boschi sono costantemente alla ricerca di un oggetto del desiderio che non trovano mai o quando lo trovano se ne forma subito un altro dopo e che viene a crearsi così una trama infinita di scene chiaramente non siamo riusciti a fare due altri autori importanti del Cinquecento che sono il Guicciardini che ha una posizione opposta a quella di Machiavelli cioè che insegna che la storia non è maestra di vita e soprattutto non siamo riusciti a fare Tasso la Gerusalemme liberata che è un'altra grandissima opere un altro grande poema epico cavalleresco di fine Cinquecento che ha notevoli rapporti con importanti rapporti collegamenti con l'Orlando Furioso vabbè non importa dopodiché finito l'Orlando Furioso abbiamo iniziato il Pentamestre con il Seicento nel Seicento abbiamo introdotto le due principali correnti culturali che erano quella del barocco che è una corrente culturale letteraria e artistica abbiamo letto La donna che si pettina di Marino il barocco dal punto di vista letterario che cosa serviva? a stupire il lettore a rendere attraverso metafore artifici retorici similitudini infatti c'è quell'immagine del pettine la mano che diventa d'avorio il pettine d'avorio che è bianco eccetera una sequenza infinita di metaforie che servivano a stupire il lettore e Marino era un po' il caposcuola della lirica barocca italiana che divenne un poeta importantissimo a livello europeo c'erano anche in questo caso gli antimarinisti che dicevano a loro volevano rifarsi a tematiche più classicheggianti rifarsi la tradizione italiana invece il barocco un po' interrompeva quel legame con la tradizione italiana del 500 abbiamo parlato a livello teorico dei primi forme di romanzi che si vennero a creare sempre all'interno del 600 il Marino che fu autore dell'Adone e Cervantes che scrisse il Don Quixote che è un poema epico-cavaleresco in prosa ed è probabilmente il primo romanzo della storia letteraria mondiale poi siamo passati a parlare della scienza nuova e di Galileo Galilei di cui abbiamo studiato la vita a grandi linee le prime opere abbiamo detto che fu importante per il metodo scientifico che all'epoca la conoscenza scientifica era ancora legata ad Aristotele a ciò che veniva letto sui libri non a ciò che veniva comprovato infatti abbiamo letto apposta dal dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che erano quello tolemaico e quello copernicano il tolemaico che ti diceva la terra è piatta e sosteneva un sacco di cose su cui invece poi la parte più della scienza nuova si scalierà contro anche dal punto di vista anatomico che i nervi secondo Aristotele provenivano dal cuore invece l'anatomista aveva visto che venivano dal cervello noi abbiamo letto proprio quel testo di Galileo che vi faceva capire perfettamente che cosa che cosa significasse utilizzare il metodo scientifico qualcosa di estremamente rivoluzionario e grandioso per l'epoca e la computazione dell'ipsedixit no ipsedixit l'ha detto lui stesso l'ha detto Aristotele quindi è così no Galileo attraverso la parola di Sagredo e salviati contro il simplicio che rappresentava le idee della chiesa e del papa porta avanti il fatto che no non è che siccome l'ha detto lui allora è così perché se lui Aristotele esistesse ancora oggi vedrete che con gli strumenti che abbiamo noi oggi darebbe ragione a noi ok quindi questo grosso modo è il 600 dopodiché siamo passati alla nostra bellissima didattica a distanza e abbiamo fatto il 700 il 700 l'abbiamo studiato bene abbiamo visto che vabbè la corrente letteraria è culturale dell'epoca il cosiddetto illuminismo l'abbiamo diviso in illuminismo francese inglese e italiano poi abbiamo fatto gli autori principali della letteratura italiana quindi abbiamo fatto Goldoni Parini e Alfieri e poi siamo passati alla fine del 700 con il neoclassicismo fino ad arrivare a Foscolo è fatto per metà l'unominismo francese abbiamo fatto i vari filosofi abbiamo iniziato descrivendo la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino quali sono che è il documento più rappresentativo degli ideali di questo periodo la rivoluzione americana la rivoluzione francese sono fenomeni storici che si sono sviluppati grazie a questo grande cambiamento che sta avvenendo nell'Europa e nella cultura occidentale e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è il documento esemplare che in qualche modo serve a capire un po' quali erano gli ideali di quest'epoca la rivoluzione francese ha cambiato il mondo in maniera radicale un mondo che prima si sosteneva sui privilegi dell'aristocrazia e finalmente dell'aristocrazia e del clero finalmente vede una nuova classe sociale emergere dal niente quella della borghesia che fino a quel momento non aveva nessun tipo di privilegio doveva pagare le tasse lavorava come un cane e però prima della rivoluzione francese non avevano privilegi non erano considerati anche a livello politico più di tanto invece gli aristocratici che non lavoravano non pagavano le tasse avevano dei privilegi giganteschi la rivoluzione francese ribaltò questo sistema basato ancora su leggi medievali feudali e la rivoluzione francese chiaramente ci fu proprio anche grazie al diffondersi di queste nuove idee che furono diffuse da questi grandi filosofi come Rousseau come Diderot Voltaire Montesquieu Montesquieu vi ricordate che nello spirito delle leggi parla della divisione dei poteri e Diderot che scrive dell'eclettismo filosofico come deve essere il vero filosofo il vero pensatore Voltaire in Candido che si parla di cosa il Candido del bisogna coltivare il proprio orto pensiamo a noi non pensiamo troppo alla politica che se pensiamo alla politica non saremo mai sereni ma rischeremo di morire di farci ammazzare di essere cospiratori poi di rousseau il discorso sull'ineguaglianza sociale dagli uomini cioè da dove si origina la differenza tra un ricco e povero e se gli uomini all'inizio della storia nascono tutti uguali perché poi cambia qualcosa la sua visione dell'uomo buono originariamente che diventa cattivo in seguito a causa della proprietà privata a causa di alcune evoluzioni che l'uomo è stato costretto a interprendere durante la storia della sua vita la famiglia il linguaggio e la causa di tutti i mali secondo Rousseau qual era? Era la proprietà privata poi siamo andati avanti questo è l'illuminismo francese abbiamo parlato dell'illuminismo inglese e in particolare di cosa dell'illuminismo inglese della forma nuova che sta nascendo che è quella del romanzo il romanzo borghese il romanzo moderno quello l'abbiamo letto degli estratti di Robinson Crosway e di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austin che rappresentavano quindi questa nuova bene gli interessi e gli ideali di questa nuova classe sociale che è la borghesia la borghesia che non era appunto l'aristocrazia che si deliziava a leggere poemi epici cavalereschi raffinatissimi e liriche molto colte eccetera e inizia la borghesia a richiedere generi letterari più abbordabili in cui ci si possa immedesimare in cui ci si possa immedesimare come appunto il romanzo il romanzo moderno di Robinson Crosway che riflette per eccellenza tutte le qualità che deve avere di essere buon borghese e saper contrastare la fortuna sapersi abituare adattare a ogni cosa che ti può capitare come l'essere naufraghi in un'isola e allo stesso tempo orgoglio e pregiudizio che abbiamo visto che riprendeva tematiche che saranno poi caratteristiche del secolo successivo del 1800 perché c'è intraspezione psicologica però orgoglio e pregiudizio cosa c'è di legato al 1700 il fatto l'ideale borghese del matrimonio delle classi sociali che non si possono mescolare tra di loro e questo crea tensione crea amori impossibili sofferenze varie e la Austin è un esempio esemplare esempio esemplare perfetto poi abbiamo visto come l'illuminismo si è diffuso in Italia l'illuminismo italiano con verri e il caffè nel testo che cos'è questo caffè i concetti principali dell'illuminismo il cosmopolitismo le differenze culturali questa apertura nei confronti dell'Europa del bene dell'umanità eccetera poi abbiamo letto dei delitti e delle pene la parte di Beccaria che ha scritto e che ha scritto contro la tortura e la pena di morte a che pro condannare qualcuno la pena di morte condannarlo alla tortura la tortura non serve vi ricordate i motivi per cui non serve o la pena di morte il paragone tra la pena di morte e il gastolo poi abbiamo studiato Giuseppe Parini Parini un illuminista un po' particolare perché è cattolico quindi crede nella nella religione come strumento che serve a dare serenità all'essere umano e chiaramente contro ogni tipo di fanatismo religioso scrive le odi le odi illuministiche per eccellenza come la salubrità dell'aria che polemizzavano contro l'inquinamento dell'aria eccetera ma soprattutto abbiamo letto noi il giorno il capolavoro del Parini abbiamo letto il giovin signore e se vi ricordate il testo un po' di questo giovin signore che si sveglia all'alba viziatissimo mentre il contadino e il fabbro sono di là che lavorano lui si sveglia ancora con gli occhi tutti stropicciati gli servono la colazione gli dicono se vuole scegliere due bevande il caffè o il cioccolato e Parini si sofferma in tutta una digressione su come il cioccolato è arrivato a colazione a lui sono stati sterminati intere popolazioni del Sud America per poi fare in modo che a lui gli venga servito del cacao o del caffè davanti sul suo letto quindi una critica feroce al mondo dell'aristocrazia in linea con le tematiche della rivoluzione francese dell'illuminismo di queste classi sociali anche se abbiamo detto del Parini che ha un rapporto un po' ambiguo nei confronti dell'aristocrazia perché nello stesso tempo neanche attratto e attratto da questa classe sociale poi siamo arrivati all'Alfieri e all'Alfieri abbiamo parlato anche della sua particolarità di illuminista perché era una persona inquieta e irrequieta che viaggiava per il mondo non tanto come per scoprire nuove culture nuove lingue ma perché cercava lui qualcosa di nuovo costantemente diverso cercava se stesso no? e viene fuori bene questo nel testo che abbiamo letto sulla vita scritta da lui stesso nel odio antitirannico e fasce nel paesaggio nordico e lui che incontra il poeta Metastasio anzi avrebbe dovuto incontrare Metastasio ma decide di non incontrarlo perché ha visto fare a Metastasio quella famosa genuflessioncella verso Maria Teresa l'imperatrice d'Austria e quindi preso come esempio di uno scrittore poeta che si prostituisce al potere poi incontra Federico II di Prussia e lo guarda negli occhi come se fosse uno qualsiasi un suo pari e e lui si sente in pace solo quando in mezzo alla neve e attraversa con la slitta e quel lago ghiacciato in Svezia in questa natura selvaggia inospitale che sono tutti i collegamenti che si possono rifare al romanticismo poi di Alfiere abbiamo letto abbiamo studiato le opere politiche ma ci siamo soffermati sulla libertà dell'intellettuale e il condizionamento economico la libertà assoluta che l'intellettuale dovrebbe avere nei confronti del potere tutto il contrario di ciò che invece viene descritto nella vita che fa metastasio il vero poeta è colui che non ha bisogno di non deve essere soggetto a nessun potere più alto il vero scrittore deve essere libero solo quando è libero veramente da ogni condizionamento sociale il poeta esprime se stesso abbiamo anche detto che l'Alfieri era un aristocratico pieno di soldi quindi aveva più facilità a fare a mettere in pratica ciò che professava a differenza di Umparini che invece era un precettore e a differenza poi dell'altro grande autore dell'illuminismo italiano Goldoni di cui abbiamo visto e abbiamo studiato la vita abbiamo visto la riforma della commedia ed era lui questa nuova forma di intellettuale scrittore che scriveva nel mercato in un vero e proprio mercato librario in cui si scriveva e lui scriveva per sopravvivere a un certo punto abbandona la professione di avvocatura che era quella che il padre aveva voluto per lui e ha il coraggio di buttarsi a capofitto nella sua passione quella del teatro che fa a Venezia e vive proprio il clima di quegli anni clima culturalmente molto in pieno fermento pieno di concorrenza quindi aveva a che fare con chi li dava da lavorare doveva accattivarsi il pubblico eccetera quindi un autore Goldoni molto importante perché anticipa tematiche che saranno poi tipiche dell'ottocento e del novecento cioè l'autore che deve sopravvivere vivere col proprio lavoro di Goldoni abbiamo letto la locandiera che viene fuori anche lì tante classi sociali diverse con ognuno dei suoi caratteri Mirandolina che è la borghese il conte di Forlimpopoli il marchese di Forlimpopoli il cavaliere di Ripafratta e adesso non mi ricordo comunque il marchese che è quello che ha il titolo io sono io e voi io sono io nel senso che vale soltanto il suo titolo però in realtà è squattrinato invece il conte di Alba Fiorita il conte di Alba Fiorita che invece ha comprato il titolo di contesato però non è educato quanto il marchese ma è spiano di soldi il cavaliere di Ripafratta il misogino che guarda tutti dall'alto in basso ma si innamora poi perdutamente anche lui di Mirandolina Mirandolina che è la borghese è arrivista personaggio molto complesso e Fabrizio il cameriere che è il contadino inurbato che prova anche lui a fare il salto di classe questo quindi è Goldoni e con questo si conclude la parte dell'illuminismo italiano e quindi con la parte illuminismo francese inglese illuminismo italiano i tre autori Parini Alfieri e Goldoni siamo passati poi nelle ultime due unità a parlare dell'ultima parte del Settecento di quelle due correnti letterarie che abbiamo chiamato che la critica ha chiamato quasi un secolo dopo neoclassicismo e romanticismo cioè delle tematiche che vengono individuate in alcuni autori del Settecento illuminista e vengono riprese per far capire ah guardate alcune tematiche del romanticismo alla fine sono state riprese da autori che hanno vissuto in pieno Settecento e infatti sono detti pre-romantici chi sono i pre-romantici? ci sono Goethe Thomas Gray Rousseau anche Winkerman McPherson con le opere che abbiamo detto parallelamente al pre-romanticismo si individuano anche queste altre quest'altra corrente letteraria che è quella del neoclassicismo cioè il rifarsi nuovamente ai modelli letterari classici della letteratura greca e romana della anche letteratura italiana del Trecento e rifarsi a modelli quindi antichi riproducendo nell'età contemporanea con tutto ciò che ne deriva abbiamo riflettuto su che cos'è il neoclassicismo no? il riadattamento del cercare di descrivere l'età contemporanea in termini classici quindi se si deve parlare di un motore della mongolfiera di sesso di qualsiasi argomento che possa essere anche in poetico si deve sublimare attraverso l'utilizzo dei classici della mitologia classica di un linguaggio colto aulico poi abbiamo visto alcune tematiche tipiche del pre-romanticismo la sensibilità pre-romantica l'animo sensibile non so di Giulia o la nuova Eloisa la storia dell'allieva dell'allieva e del maestro che si innamorano l'amore impossibile di San Pro che è quest'anima sensibile che si trova bene nella natura non può vivere il suo amore con Giulia e fa tutta una riflessione sulla sensibilità Goethe il discorso sul suicidio Thomas Gray il discorso dell'Elegia dei poveri che non hanno che sembra che non abbiano avuto storia quando in realtà anche loro hanno la loro storia vogliono essere ricordati attraverso i sepolcri e ok e poi Winckelmann anche la statua di Apollo che è l'ideale di bellezza sublime dell'arte greca che crea ti fa venire voglia di entrare in una realtà parallela eccetera neoclassicismo pre-romanticismo l'autore italiano più importante che abbiamo fatto per meno di metà è Foscolo Foscolo di cui abbiamo letto soltanto abbiamo studiato la vita abbiamo letto soltanto due testi di Jacopo Ortis e il sacrificio qui c'è tutta una riflessione politica nel colloquio con Parini che si ricollega all'Alfieri si ricollega a Machiavelli sul pessimismo su politico su come fare politica quanto sia difficile impossibile quanto serva violenza crudeltà perché si ha a che fare con un'umanità bassa abbietta schifosa e poi l'entusiasmo di questo giovane Jacopo Ortis il modello di riferimento romanzo epistolare che si rifà a Russo si rifà a Goethe primo romanzo della letteratura italiana però non è un vero e proprio romanzo è più un monologo gli argomenti sono tantissimi e poi li vedremo meglio o li vedrete meglio il prossimo anno questo è il programma di letteratura chiaramente quest'anno abbiamo anche fatto altro abbiamo letto due libri e salvare il mondo prima di scena perché il clima siamo noi di Foer e poi se siete stati bravi e l'avete letto anche durante le vacanze di Natale dovreste aver letto l'amica geniale della Ferrante in particolare di salvare il mondo all'ora di scena ve l'avevo fatto leggere perché è un saggio sull'ambiente quindi era un saggio letterario anche con alcuni riflessioni collegamenti particolari molto un po' estrosi perché si vede che lui è uno scrittore non è un saggista e a me quello che mi ricordo di più di questo libro era che quanto provasse a convincerci a convincerci di passare all'azione e che il pensiero come trasformare il pensiero in azione perché in alcuni contesti l'essere umano riesce a farlo e perché con l'ambiente non riesce a farlo ci provava a convincere a diventare più consapevoli in ciò che noi consumiamo nell'utilizzo della carne nell'utilizzo di ciò che noi acquistiamo di ciò che a noi piace anche di essere dei consumisti critici non comprare così tanta ad esempio carne non comprare giubbotti di pelle scarpe di pelle stare attenti a ciò che si fa perché l'ambiente è probabilmente il problema ambientale che stiamo vivendo è probabilmente il problema più grande che l'umanità deve affrontare nella storia della sua della sua specie perché l'ambiente rischia di collassare cosa possiamo fare noi che siamo già in ritardo una cosa che possiamo fare è scegliere di essere vegetariani oppure mangiare carne solo una volta per cena questo aveva detto nel romanzo poi abbiamo visto un sacco di film abbiamo visto un sacco di film che anche se non ve l'ho messi sotto forma di argomenti come se io dovesse esserci il prossimo anno magari farò se mi riuscirò a farlo quindi fare non so i film per tematiche quindi tematica dell'amore vedere come viene trattato l'amore qua oppure il problema della famiglia vista con questi film qua il problema i film sulla guerra come viene vista la guerra in questo modo non siamo andati per argomenti ve l'ho dati un po' scaglioni mi sembra avervi dato tutti dei grandissimi film per aumentare un po' il vostro senso critico darvi più argomenti di riempirvi un po' la testa di nozioni non di nozioni di sensazioni emozioni quello che volete e mi sembra abbastanza poi abbiamo letto anche due canti della divina commedia come se non bastasse quindi abbiamo fatto veramente tanto parallelamente a questo abbiamo lavorato chiaramente sulla scrittura abbiamo fatto dei temi temi argomentativi eccetera abbiamo fatto tantissimo quest'anno veramente tanto un sacco di argomenti un sacco di di tematiche collegamenti quindi capite bene che il voto che avrete quest'anno a fine anno non rispecchia per niente il lavoro se mi avete seguito avete fatto tutto quello che vi ho detto avete accumulato una serie di conoscenze a volte emozioni sensazioni veramente grandi e poi stravoi assimilarle a me sembra di aver dato di aver fatto il massimo che